Buongiorno a tutti, dal dottor Freguglia e dal dottor Carrera che anche quest'anno come di consueto aprono lo studio a Isola Rossa. Siamo stati chiamati da questo grave problema che sussiste nell'isola di pesci con malformazioni dentali, denti da curare. Oggi in particolare ci occupiamo di un gruppo di palestra che speriamo di incontrare, ci hanno mandato un fax dicendo di grossi problemi agli incisi. Esatto, tanti hanno letto il nostro trattato e di conseguenza si rivolgono a noi e noi abbiamo una cura definitiva. Va bene dottor Carrera a sto punto, non perdiamo tempo e vediamo chi c'è davanti alla porta. Apriamo, va!